Come diceva Qualtiero Marchese che la professione che uno fa nel settore culinario gastronomico se la fa con passione non è altro che il prolungamento di noi stessi. Sul menù non sta scritto pizzeria La Notizia ma sta scritto è il luogo dove Enzo Coccia accoglie gli amici è un modo di convivialità di stare bene insieme e di uscire avendo mangiato una pizza di qualità quindi una serata piacevole un sorriso quanto costa non costa tantissimo ma vale tantissimo è un concetto di rispetto se colui che fa il produttore o il pizzaiuolo in questo caso al rispetto della persona delle persone delle famiglie degli amici dei clienti degli avventori significa che lui ha rispetto del proprio lavoro ha rispetto del proprio territorio ha rispetto dei prodotti che sta lavorando che sta trasformando per le cose se ha rispetto di tutto questo quindi se vogliamo dire un discorso di vita filosofico è troppo complesso un discorso di vita il rispetto se voi vi accorgete che andate in una pizzeria e ci stanno camerieri che vi lanciano una pizza tutto è un pizzaiuolo dice uffa fa altre pizze cambiate pizzeria perché che non sarà mai una pizza buona grazie a tutti